Non abbiamo il camper, stiamo attendendo quello nuovo che arriverà tra maggio e giugno. Guarda un po' cos'è arrivato. Guarda un po' cos'è. Guarda un po' cos'è. E poi si parte alla volta di Nord Affari che Andrea ci sta aspettando. Vamos! Nord Affari si trova a Brusnengo un paesino vicino a Biella in Piemonte e dovevo andare lì in treno ma fortunatamente ho trovato un passaggio da un amico che deve andare nelle vicinanze per lavoro e quindi aspettiamolo Sapete cosa vi dico? Siccome non ho voglia di fare 5 ore di viaggio per arrivare fino lì e visto che funziona... Beh signore mi sa che vi ha qualcosa. Ah ecco! Mi raccomando iscrivetevi al canale commentate mettete un like insomma fate qualcosa Bene siamo appena usciti da Nord Affari ora un bel pieno di gasolio e via a casa Ciao Andrea! Bene ora che abbiamo salutato Andrea e ci siamo messi in marcia vi racconto un po' la nostra storia siamo Riccardo, Elisa e Gianluca e loro mi stanno aspettando a casa camperisti dal 2012 abbiamo deciso di iniziare questa avventura acquistando un vecchio mansardato un Mizzar 146 metri di lunghezza del 98 dopo cinque anni abbiamo deciso di fare un salto di qualità acquistando un semi integrale Detlef da 7 metri di lunghezza che aveva solo due anni di vita Bel camper ma non era quello che volevamo veramente e purtroppo all'epoca un van usato come lo volevamo noi non si trovava e nuovo non potevamo permettercelo Beh dopo un anno e mezzo e varie valutazioni ho preso la Elisa e gli ho detto si vive una volta sola e facciamo la stampazia A settembre 2019 siamo andati in fiera a Parma e come vedete ora mi trovo qui in sella a un Pöselrothruiser mi raccomando la pronuncia se no i tedeschi si arrabbiano Ciao Milano Pausa caffè se no prendo il sonno Cioè ma guardate quanto è bello come brilla Proseguiamo il nostro viaggio a casa che ci aspettano Ciao bambini Il van col tetto a soffietto è un nostro sogno da molto tempo Perché un Pöselr? Beh sono varie le motivazioni Motivo 1 abbiamo deciso di riporre se vogliamo la nostra fiducia a un'azienda che costruisce van da 30 anni e fa solo quello Motivo 2 Sembrava a parer nostro il più valido come rapporto qualità prezzo E 3 ci ha convinto molto gli spazi e la disposizione interna E' di buono auspicio dare un nome al proprio van o al proprio camper Noi non abbiamo ancora idea quindi se avete qualche consiglio scrivetelo giù nei commenti che lo prenderemo in considerazione Grazie Ecco ecco Ciao Veneto Ben signore guarda questo Dai andemo Sono a Verona e il computer di bordo mi segna come media 12,6 km con un litro Però considerate che sono vuoto E avendo il motore nuovo non ho voluto tirargli il collo E quindi sono rimasto sempre tra i 90 e i 100 km orari non di più Spostamenti quando si sorpassa un camion quasi inesistenti Top Facendo un paragone con quello che avevamo prima Che era un Fiat 130 CV Devo dire che questo è abbastanza più silenzioso Lo sterzo è leggermente più duro rispetto al Fiat Ha meno freno motore rispetto al Fiat Il cambio è simile al Fiat solo leggermente più duro Ma probabilmente perché è nuovo e si deve un po' rodare Ah casa dolce casa Uscita Campagna Ciao Gian Hai visto Gian? Finalmente Wow è bellissimo Ciao miciona Attenta che mi strisci il van Bene gente io sono arrivato a casa Spero che il video vi sia piaciuto Qualcuno mi ha già chiesto di far vedere l'interno Ma rimandiamo l'appuntamento alla seconda parte Al prossimo video Non mi resta che ringraziarvi e salutarvi Ciao Te la senti? Dove lo dire? Dove lo dire Ben signore Ben signore Bravo Me sa che go sbagliar qualcosa Me sa che go sbagliar qualcosa Qualcosa Me sa che go sbagliar qualcosa Bravo Me sa che go sbagliar qualcosa 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 Fai finta che ci siano due S Qualcosa Mi sa che go sbagliar qualcosa Sbagliar qualcosa No 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 Grazie a tutti.